Basket San Giorgio premiato al secondo galà dello sport mantovano, siete una delle realtà in più grande espansione in questa città, il basket in rosa a Mantua in serie B con ambizione. È una bella soddisfazione, è da tanti anni che la società è nata nel 2000, però da 4-5 anni che vogliamo raggiungere l'elite del basket rosa a livello mantovano. Credo che siamo la società, anzi sono sicuro che siamo la società di punta del mantovano e di quella fascia di Lombardia da un punto di vista di basket femminile e questo è un vanto per la nostra società, per un paese che quindi non si ferma solo a San Giorgio ma è tutto un movimento cestistico mantovano della città perché nonostante abbiamo anche la serie B, abbiamo anche un campione di promozione, abbiamo delle giovanili, quindi c'è tutto un movimento dietro che fa da padrona a ciò che è il basket femminile a Mantua. La famiglia Purrone impegnata a tempo pieno in questa avventura ma la scelta di cambiare poco soprattutto nella prima squadra per puntare in alto badando a quello che c'è in casa che è ottima come punto di partenza. Sì, le ragazze confermate sono state il gruppo intanto da un punto di vista umano perché da quel punto di vista lì non avevamo il minimo dubbio sul fatto di voler puntare su di loro. Da un punto di vista tecnico anche perché loro si sono dimostrate e hanno dimostrato di valere la categoria e quest'anno l'hanno confermato alla grande con un gruppo fantastico di ragazze che al momento siamo quarti e giriamo attorno al quarto posto. Da neopromossa non è niente male. Facciamo con quello che abbiamo in casa, nel senso che anche gli allenatori siamo quasi tutti di San Giorgio o comunque di paesi limitrofi a Mantua e questo comunque è un ottimo slogan per il basket femminile a Mantua.